ah devi scendere in mezzo e fare bigaccia sì no 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 ho capito il primo pezzo l'ho capito e quattro ma questa va bene questa lascia andare viene giusto non è questo fa usare magari un po di peso ma che vedo dietro paulino cazzo anche quella lì in alto anche se arrivi su rilasciarla passare un po più in alto devi solo passare un po più in alto e basta ma qui come cazzo fai star dentro qua figaro devi allargare fino al tronco aspetta fammi riprovare stia devo tenerla ancora un pezzo ma che vada via lascia andare ma non è strada quando gli dai questa va è ma anche se metti l'uno le stesse ma la ci stavo anche quasi eh hai girato bene ho girato giusto ma perché hai partito via e hai partito davanti perché hai appoggiato dietro ha cominciato dopo aver cominciato a trainare un po rimane lì la moto ma è strecca è figaro è una zona da spampi questa la biscia non lo vuoi fare? eh 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 oh non l'ho preso prima e anche la stanza eh se sente ah ehi ah basta un trostrato vieni su a vedere di la papi vieni su a vedere quella discesa lì provala in moto ma sei fuori ma neanche Tony Boo salta giù oh Tony Bao non l'ho preso ha paracangono vai vai scegli la tua parte ma ti facciai di qua ma va vai 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 che c'è l'otto no di qua guarda solo giù e basta vai vai a guardarla in moto gira tanto c'è l'otto puoi uscire di là dopo puoi uscire da qua di nuovo vai vai a vederla puntala lì sei fuori a te che razza di vino hai bevuto che razza di vino ho bevuto ciao Paolo torni pure qua lascia giù la moto e fa il giro torni pure ma qua di punta 5 si ne va o salta e salta fino al Paolo vai fai il giro fai il giro che torni indietro giri e torni giù vedi che però ho già fatto l'otto salta ma vuoi che vino io ti è bevuto oh povero me oh povero me oh povero me sembra sembra già così eh sembra già così eh ma va ma non riesci qua è solo per quando arrivano qua gli altri nuovi che non l'ha mai visto l'abbiamo provato sabato domenica prova anche te a vedere figo non ci pensa neanche di qua ma sei fuori cazzo qua esatto no ma non trovo qua è verticale ne sono 7 8 metri in verticale dovremmo dirlo al marco magari il marco prova figaro è bravo bravo figaro c'è sotto di tutto ma di tutto c'è sotto bella però mi piace la scena che fa bella però mi piace la scena che fa